Sono Luca, ho 27 anni e ho frequentato il corso IFTS Sviluppo Software in Galdus. Sono venuto a conoscenza del corso IFTS Sviluppo Software, effettuando una semplice ricerca su internet, ho consultato quindi il sito di Regione Lombardia, ho avuto la possibilità quindi di trovare facilmente il bando e tramite un colloquio con Galdus ho venuto accedere alle selezioni. I principali vantaggi nel frequentare questo corso per me sono stati il metodo principalmente pratico rispetto al metodo accademico visto in università e, cosa molto più importante, il contatto diretto con le aziende. Punto di svolta per la mia carriera è possibilità di networking. Grazie mille. Grazie mille.